Buongiorno e bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con mattino 6 la nostra rassegna stampa andiamo a iniziare subito la lettura delle prime pagine regionali partiamo dal quotidiano il messaggero la prima dell'inserto abruzzo apre con il titolo perseguitata anche a natale la vita da incubo di ester pasqualoni pedinamenti sms giorno e notte per anni adriano celentano dice è stata lasciata sola la val vibrata intanto le intitola all'ospedale oggi l'addio a teramo e poi nella mente del killer lei doveva pagare per l'amore perduto nel frattempo ad alba adriatica nuvola di palloncini bianchi per manuel delitto per una ragazza l'albanese accusato di questo delitto resta in cella nel taglio alto ancora la cronaca sacra corona il boss aveva preso casa a pescara sebastiano cellammare abitava in via fabrizi gli affari nelle sale e slotta san salvo giovane butta fuori viene gabbizzato al locale perché si è rifiutato di far entrare un gruppo di ragazzi di nazionalità albanese valter cordisco è fuori pericolo ma ne avrà per 40 giorni a chieti fondi illeciti 5 vanno a processo per l'assegnazione dei contributi per l'emergenza abitativa continuiamo la cronaca nel taglio basso scafa volo di 15 metri una donna si salva un volo di 15 metri dal ponte del fiume pescara che collega il comune di scafa a quello di alanno andiamo a vedere di spalla grandi opere referendum per concedere il via libera proposta di legge dei 5 stelle e di cdc per le opere pubbliche e private di oltre 50 milioni di euro continuiamo con la lettura della prima pagina del messaggero adesso andiamo anzi torniamo nel taglio alto che caldo c'è poca acqua l'acca invita le famiglie a razionarla poi a lanciano altra notizia di cronaca nel salone dei massaggi lezioni di kamasutra e poi gran sasso precipita dal corno grande mentre scala la montagna la vittima è un vigile del fuoco di roma andiamo avanti ancora con le prime pagine regionali cambiamo testata passiamo al centro questa è la prima dell'edizione di pescara non ho infettato i clienti con l'ids parla la prostituta arrestata solo rapporti protetti da quando ho scoperto la malattia così si è difesa la prostituta che è stata arrestata dalla squadra mobile di pescara e poi a centro pagina nuova tragedia sul gran sasso nella fotonotizia montagna pericolosa istruzioni per l'uso cosa fare cosa portare per un'escursione in sicurezza dopo l'ennesima tragedia avvenuta sul ghiacciaio del calderone vedete nel riquadro la vittima un vigile del fuoco romano e poi nelle cronache cene hotel per i giochi i debiti li paga il comune per l'evento del 2015 e ancora finiti i fondi stop alle cure al paolo sesto e a montesilvano eventi estivi appello agli sponsor nel taglio basso miss mamma 2017 due abruzzesi alla finalissima claudia gallo di giulianova e valentina peca di manopello nel taglio alto a teramo convegno con le nini e roberti tratta di esseri umani nuovo business criminale modena badante uccide il compagno poi lo evira e chiama il 113 andiamo a vedere anche la prima di teramo ester fendente fatale alla gola il titolo di apertura l'assassino suicida si è accanito sull'oncologa oggi a teramo saranno celebrati i funerali della donna e dunque il titolo è dedicato all'omicidio di sant'omero nelle cronache il delitto di alba invece folla di centinaia di rom per l'addio a manuel spinelli ancora la politica la crisi al comune di teramo brucchi anche senza numeri non mi dimetto e poi da roseto fogna rotta liquami in mare e bagni vietati per 48 ore secondo l'ordinanza del sindaco continuiamo con il quotidiano il centro andiamo a vedere la prima di chieti e lanciano vasto butta fuori gambizzato a san salvo il titolo di apertura nega l'ingresso alla discoteca del lì da un gruppo di albanesi è stato operato nella notte poi nelle cronache radioterapia bloccata l'asla annuncia fondi a chieti per lanciano prostituzione chiuso un centro massaggi cinese a chieti i fratelli ritrovati non si erano mai conosciuti ancora adesso andiamo a vedere la prima di l'aquila vezzano sul mona ultimo appello andate a votare titolo di apertura dedicato alle amministrative l'aquila dalla redazione del centro di benedetto e biondi si preparano al ballottaggio nelle cronache a vezzano di pangrazio de angelis scintille ai comizi finali oggi insomma è giornata di riflessione prima del voto di domani ancora l'aquila calcio dubbi dei tifosi vendita solo di facciata per quanto riguarda la serie D e poi sul mona stadio pallozzi ai nero stellati ma è scontro dopo la promozione appunto dei nero stellati pratola che dovrebbero giocare nel comunale di sul mona continuiamo con la lettura delle prime pagine regionali adesso ci spostiamo sulla città il quotidiano della provincia di Teramo che torna a titolare sull'omicidio della Val Vibrata ospedale intitolato a Esther Pasqualoni questa è la notizia di ieri a seguito della decisione della ASL di Teramo che intende così ricordare l'oncologa uccisa dallo stalker nel parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero poi a centropagina l'addio a Teramo oggi pomeriggio i funerali alle 16.30 nella chiesa di Villa Mosca intanto per l'autopsia fatali tre coltellate al collo i risultati degli accertamenti del medico legale sulla vittima e poi l'intervento di Mauro Aianni la vita che si tinge di nero nel taglio alto la crisi politica a Teramo febbre da notaio per la caduta del sindaco e poi di spalla le nini a Teramo avremo pull di magistrati antistalking nelle procure polemica sui CPO a Abruzzo una regione che non ama le donne nel taglio basso l'incidente sulle Gran Sasso vigile del fuoco che precipita e muore scalando il calderone ancora il divieto di bagnazione a Roseto niente bagno per colpa del ruzzo e di uno sversamento di liquami nella zona di Colonia Spiaggia Continuiamo con la lettura delle prime pagine però adesso andiamo ad aprire lo spazio dedicato al nazionale allora andiamo a vedere i principali quotidiani italiani partiamo dal Corriere della Sera parte il piano sulle Venete il titolo di apertura via libera della BCE alla liquidazione modello Montepaschi per i risparmiatori il salvataggio passo in avanti verso l'acquisto da parte di Banca Intesa oggi le mosse del governo con un decreto ad hoc poi l'addio a Stefano Rodotai il giurista delle battaglie sui diritti civili che fu anche candidato alla presidenza della Repubblica a centropagina Sheridan che guida i giovani anti-Temer Brasile la deputata 33enne la rivolta delle teste nere continuiamo con i quotidiani nazionali adesso andiamo sulla Repubblica Banche Venete la scure della BCE salvataggio al via Francoforte insolventi Vicenza e Veneto Banca tesoro e intesa si tratta sul prezzo e sugli esuberi l'addio a Stefano Rodotai l'uomo dei diritti una vita fatta di passione civile il giurista aveva 84 anni ed è scomparso nella giornata di ieri continuiamo con la stampa Banche, ecco il conto 31 miliardi il titolo di apertura del quotidiano torinese da MPS e Etruria tanto sono costati i salvataggi arriva il decreto del Consiglio dei Ministri per le Venete per la BCE Veneto Banche e Popolare di Vicenza sono in probabile fallimento salvi i correntisti e i bond ora serve il sì dell'Unione Europea a centropagina migranti Merkel e Macron fare di più per l'Italia vertice dell'Unione Europea gelo su Theresa May la sua offerta sui diritti dei cittadini europei dopo la Brexit è insufficiente soprattutto la possibilità di ricorso alla Corte di Giustizia Europea che non è contemplata attualmente dalla proposta del governo britannico a far storcere il naso all'Unione Europea ancora a 20 miglia i profughi dormono sotto il viadotto questa l'inchiesta che propone la stampa di spalla siccità secca storica e oggi l'allarme ondate di calore secca storica per il Po ma non solo per tanti fiumi un po' in tutta Italia per questa ondata di caldo affoso con il caldo africano che ha raggiunto la nostra penisola continuiamo sul Fatto Quotidiano titolo di apertura Rodotà il presidente che non ci meritavamo è morto il grande giurista innamorato della Costituzione aveva 84 anni docente di diritto deputato per 4 legislature primo garante della privacy da sempre in difesa dei beni comuni al colle gli fu preferito napolitano scendiamo Fazio ecco il contratto ingaggio da 11 milioni Rai altro che tetto ai compensi dalle CDA ok ai nuovi palinsesti e poi Salva Banche ha intesa un regalo da 7 miliardi le Venete il prezzo per prendersi la parte buona dei due istituti Expo il sindaco Sala turbativa d'asta è falso Sala ora rischia il processo continuiamo sul messaggero Banche c'è il decreto salvataggio il titolo con cui viene aperto il giornale romano accordo di massima fra intesa e il tesoro su esuberi e sofferenze dei due istituti veneti oggi il provvedimento del Consiglio dei Ministri la BCE era pronta a decretare il fallimento il Russiagate rapporto della CIA Trump sapeva Putin ordinò ai suoi hacker di danneggiare la Clinton e poi il vertice di Bruxelles migranti dall'Europa più aiuta all'Italia insufficienti le offerte di May sulla Brexit e su questo argomento l'articolo di Marco Gervasoni il ruolo dell'Italia il nuovo asse Merkel-Macron può diventare una tenaglia andiamo ancora a leggere altre notizie Roma Marra gestì la nomina del fratello così Romeo ha smentito la raggi il sindaco ha sempre rivendicato la paternità della scelta la linea del movimento l'avvocato di Grillo su Virginia si è condannata via il simbolo continuiamo sempre con i quotidiani nazionali adesso andiamo a vedere la prima del manifesto la grande civiltà sulla foto di Stefano Rodotà giurista intellettuale politico dentro e fuori partiti è morto a 84 anni maestro di diritto e di libertà ha insegnato alla sinistra e a questo paese l'inesauribile garanzia delle leggi e della Costituzione l'importanza della privacy la laicità il senso della rete libero ora secondo un allarmante calcolo degli esercenti lo Stato ruba metà quattordicesima su un totale di 6,7 miliardi di euro circa 1,6 se ne andranno per saldare conti in sospeso dai debiti alle bollette scadute altri 938 milioni saranno usati per le spese sanitarie mentre i rimanenti 737 milioni per pagare i mutari e altre imposte così l'apertura del quotidiano diretto da feltri e poi la decadenza del made in Italy anche Gucci inciampa nel ridicolo andiamo avanti il giornale il piangina coperto d'oro Fazio Cocco di Mammarai 11 milioni per arrestare protestava contro i tagli e la tv lottizzata è stato accontentato intanto chiude l'arena di Giletti i palinsesti tutti a sinistra questa la posizione del giornale continuiamo con la verità il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro nuova inchiesta da Rezzo soldi di Papaboschi in Honduras le indagini sul dossier dei massoni gli investigatori hanno trovato nei PC della cricca di Flavio Carboni in contatto con l'ex vicepresidente di Etruria un piano finanziario che porta in centro America costituzione di fondi esteri o prove di ricatto e poi la quinta volta del sindaco Orlando il politico che piace solo a Palermo nella fotonotizia ancora invece la RAI in primo piano ma che tetto la RAI dà a Fazio un milione in più il CDA ha deciso di portare il compenso del conduttore a 2,8 milioni l'anno ma lavorerà tanto il tempo centro di inciviltà permanente il titolo di apertura e reportage siamo andati a vedere il campo di accoglienza immigrati più contestato di Roma zero contro gli ospiti liberi di fare i loro comodi paura nelle quartiere cresciuti furti e violenze così il giornale romano a centro pagina ancora notizie che riguardano Roma ma questa volta il calcio il romanista rifiuti i soldi di Murigno e la Lazio è a un passo dal Papu Gomez la scelta del ninja Nainggolan e poi di spalla il giurista scomparso a 84 anni addio a Rodotà icona di sinistra e idolo grillino sul mattino di Napoli il no ai vaccini colpisce i deboli c'è un'intervista al ministro della salute Lorenzin che dice potenzieremo la prevenzione su obbligo e sanzioni non torno indietro il ministro conferma più vittime soprattutto tra gli anziani intanto il caso record delle temperature caldo e siccità agricoltura KO in campagna razionata l'acqua come vedete problemi un po' in tutto lo stivale per questa ondata di caldo ancora migranti dall'Unione Europea aiuti solo a parole dal vertice aperture ma nessun provvedimento Macron e l'Italia va ascoltata di più a centro pagina caro insignie attento alle cassanate lo scatto Lorenzo e il rapporto con l'amico Fantantonio in questa bella fotografia in cui i due vanno insieme in bicicletta il secolo XIX il quotidiano genovese Genova corsa per votare al ballottaggio Genova è tra le città che a livello nazionale stanno tenendo la maggiore attenzione per quanto riguarda questo voto amministrativo il voto di Genova potrebbe essere anche un voto con riflessi sulla politica nazionale più di 8 mila nuovi certificati in 12 giorni il dato rincuora i dem Crivello rimonta Bucci arriveremo al 57% gli ultimi veleni appunto per questa importante elezione del nuovo sindaco di Genova e poi a centropagina nella fotonotizia l'eredità dei portatori di Cristi candidati alla tutela dell'UNESCO in Liguria e i giovani continuano la tradizione poi troviamo i migranti svolta dell'Unione Europea a fare di più per l'Italia dal vertice no alla proposta May sulla Brexit intanto Merkel e Macron dicono serve una maggiore solidarietà nei confronti del nostro paese il dubbio è morto Rodotà giurista difensore dei diritti intellettuali libero e originale questo è ricordo del dubbio del grande giurista scomparso ieri poi il ritorno in grande stile del leader di Forza Italia le donne il cavalier l'arma e il partito riecco Berlusconi che ieri è riapparso con delle interviste proprio alla vigilia del voto continuiamo con la gazzetta del mezzogiorno il quotidiano pugliese ballottaggi ultimi fuochi Roma e Milano senza pace esposa l'indagato turbativa d'asta la morte di Rodotà una vita di battaglie per i diritti civili e sociali dunque questo un po' un titolo che fa il riassunto di tutta la giornata di ieri acqua e riserve in calo una stretta sui consumi per quanto riguarda la siccità anche in Puglia problemi però situazione sotto controllo scrive il giornale via libera al potabilizzatore di Conza lunedì nuovo vertice anche a Bari a centro pagina Renzo Arbore si festeggia 80 anni la capa fresca lo showman racconta i ricordi e tanti progetti per il futuro nel taglio alto troviamo l'Ilva morti per l'amianto all'Ilva in appello un'altra verità Taranto cancellate 22 contanne su 25 andiamo a vedere anche il Gazzettino il quotidiano del nord-est Banche Venete la partita finale ovviamente il Gazzettino punta la sua attenzione su quanto sta accadendo nel sistema bancario italiano Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca in liquidazione coatta costo dell'operazione per lo Stato tra gli 8 e i 9 miliardi dopo una giornata di tensioni l'ok della Banca Centrale Europea oggi il decreto per il salvataggio da parte di Banca Intesa Continuiamo con la lettura dei quotidiani nazionali ma adesso lasciamo i quotidiani generalisti per passare allo sport la Gazzetta dello Sport propone questo doppio titolo sul calcio e sulla Formula 1 Spalletti l'Inter sono io la prima regola è l'appartenenza su questo martellerò i giocatori dice il neotecnico dell'Inter la Champions è l'obiettivo minimo il tecnico le mie mani sono quelle di uno che ama stare in campagna di un contadino così inizia il suo racconto della nuova avventura in nera azzurro e poi come detto la Formula 1 Vettel la Ferrari sono io dunque questo parallelismo tra i due personaggi a Maranello mi sento un uomo felice non ci saranno sorprese sul contratto avrei voluto essere Michael Jackson questa è la rivelazione di Fettel a Baculo ottava prova del Mondiale Seb è contento della sua Ferrari e confessa sogni e desideri e progetti nel taglio basso Bivio Under dentro o fuori il CT di Biagio cuore e rabbia l'impresa è possibile europeo la partita sarà trasmessa da Rai 1 alle 20.45 con la Germana agli azzurri serve vincere almeno 3 a 1 un'impresa davvero difficile e ancora Bebi Maldini campione d'Italia con l'Under 16 per quanto riguarda il nuovo attaccante Carri e Barbiere scicche nella Juve a cresta bassa il corriere dello sport attenti a quei due il titolo sulla fotografia che ritrae Conte e Mancini che svaliggiano la Serie A salto Chelsea alla Juve 110 milioni per Bonucci Alex Sandro e lo Zenit prende Manolas e Paredes alla Roma vanno 45 milioni la 2x2 di Walter Vettroni Mauro io che ho giocato con Zico Platini e Maradona nel taglio alto gli europei l'Under cerca la grande impresa per passare deve battere 3 a 1 la Germania di Biagio cambia ancora la squadra e difende gli azzurri credono i giocatori non sono viziati partita come detto alle 20.45 nel taglio basso Berlusconi vorrei rivedere Ibraimovic nel Milan così l'ex presidente del Milan e poi l'indiscreto la vera storia del no di Dybala a Dani Alves e poi Formula 1 a Bacu bene le rosse vola Verstappen alle 15 la Pol tutto sport andiamo a vedere questa prima pagina Messi 30 anni raccontati senza veglia poi la Juve per la fascia subito Spinazzola il Milan un altro Maldini tricolore dopo Cesare e poi dopo Paolo Maldini anche Daniel conquista il tricolore nel taglio alto Toro assalto finale a Sirigu il portiere a un passo da Mihailovic nel taglio basso l'Under 21 contro la Germania serve una impresa storica possiamo dire bisogna vincere 3 a 1 per qualificarsi e poi la moto dovizioso esclusivo sono un timido e un supereroe le donne Giussi Versace presto la voce a chi non ce l'ha lasciamo i quotidiani e le prime pagine i quotidiani cartacei andiamo sull'online per vedere alcuni dei principali portali di informazione online abruzzese Fondovale Sangro è la prima di Prima da Noi per la strada d'Oro spuntano Maltauro, Toto e Di Vincenzo però l'apertura delle buste slitta di 5 giorni ancora Pescara la regione dà il via libera il comune toglie anche il divieto di balneazione in via Balilla le carte sono a posto e il mare resta secondo Prima da Noi un interrogativo l'inchiesta da Roma per far affare in Abruzzo 23 arresti e sequestro da 280 milioni sigilli e molte attività commerciali in Abruzzo interessata la zona di Pescara e poi il delitto con l'omicidio di Alba Adriatica ha convalidato l'arresto dall'albanese ieri funerali delle 22enne ucciso a Pugnalate ancora la cronaca Gran Sasso precipita prima del Calderone morto un alpinista vigile del fuoco romano andiamo anche su City Rumors a vedere le principali notizie femminicidio e Sant'Omero autopsia fatali le coltellate al collo per Esther Pasqualoni la dottoressa uccisa mercoledì pomeriggio nel parcheggio dell'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero poi l'omicidio di Alba Adriatica folla i funerali di Emanuele Spinelli convalidato intanto l'arresto dell'albanese il perdone vitale ci fa vivere ci fa vivere meglio e più sereni è un passaggio dell'omelia durante la messa funebre e poi Lanciano sequestrato centro massaggio a luci rosse con l'accusa di induzione e favoreggiamento della prostituzione e poi ancora l'emergenza caldo domenica da Bollino Rosso a Pescara weekend di fuoco scusate per dieci città italiane tra cui appunto il capoluogo Adriatico e poi incidente sul Gran Sasso morto sul ghiacciaio del Corno Grande soccorsi che hanno impiegato la mattinata per recuperare il cadavere dell'escursionista romano abbiamo visto vigile del fuoco andiamo su ABR News 24 niente contributi a DJ musicisti sanzioni per 19 mila euro e poi contributi per l'emergenza abitativa non dovuti a Chieti 5 persone a giudizio andiamo a vedere anche Abruzzo Web quotidiano Abruzzo Web intervista video a Berlusconi sull'Aquila nessuno ha fatto come noi e poi ballottaggio l'Aquila portavoce del PD grande risultato può essere un modello Ricchetti di Benedetto è stato protagonista di ogni fase del partito dunque su Abruzzo Web fa ripuntati sulle elezioni all'Aquila e poi oncologo uccisa da coltellate al collo ora i funerali l'ospedale avrà il suo nome dunque l'ospedale della Val Vibrata si chiamerà ospedale Esther Pasqualoni noi ci fermiamo per il break pubblicitario però prima andiamo a vedere le previsioni meteo come abbiamo visto grande caldo previsto per le prossime ore dunque vediamo i nostri esperti di Meteo 6 cosa prevedono per le prossime ore poi torneremo con la seconda parte della nostra rassegna dedicata all'approfondimento delle notizie dalla nostra regione tra poco eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di mattino 6 torniamo dunque alle notizie dalla nostra regione aprendo le pagine interne dei quotidiani in primo piano sul centro montagna pericolosa precipita sulle Gran Sasso muore un vigile del fuoco Maurizio Persieri 49 anni romano era incordata con un amico che è rimasto illeso i due escursionisti avevano deciso di fare la traversata delle creste per raggiungere il ghiacciaio delle Calderone la vittima ha perso per motivi ignoti la corda ed è scivolato per 80 metri fermandosi su una roccia il Calderone in estate pieno di insidie l'attanzio del collegio Guido Alpine meglio praticarlo in inverno quando la neve riduce le pendenze io non mi ci avventurerei nella bella stagione dice perché non puoi avere la certezza delle condizioni in cui lo troverai imprevedibili anche per le temperature gran parte dei soccorsi sono effettuati nei mesi caldi quando aumentano i frequentatori nel 95% dei casi si tratta di alpinisti occasionali i consigli per non rischiare l'escursione non è una sfida occorrono rispetto e umiltà meglio andare in compagnia se non si è molto esperti informarsi sulla situazione del meteo scegliere la meta in base alle condizioni fisiche alla preparazione occhio all'abbigliamento e qui vedete cosa mettere nello zaino nel taglio basso le principali regole da seguire il sogno di affrontare il corno grande le cose da sapere e da fare che potete leggere nell'articolo continuiamo con il quotidiano il centro sempre in primo piano il convegno di ieri all'università di teramo nuovi schiavismi tratta di esseri umani il grande business della criminalità a teramo il procuratore antimafia Roberti la fa anche l'isis legnini non siamo ancora attrezzati per combatterla andiamo a vedere insieme il servizio su questo convegno realizzato da Tania Bonici Castelli il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ospite dell'università di teramo per un convegno sulla tratta degli esseri umani organizzato dalla procura della repubblica teramana non nasconde la verità sulla presenza di infiltrazioni mafiose anche in Abruzzo procuratore l'Abruzzo entra a pieno titolo tra le regioni dove la mafia fa affari la mafia tende a fare affari dappertutto in Italia e all'estero quindi non vedo perché l'Abruzzo dovrebbe essere immune da questi tentativi di infiltrazione infatti lo è stato per fortuna sono stati anche scoperti con un'azione investigativa incisiva condotta dalla procura distrittuale dell'Aquila e a proposito dell'Aquila la ricostruzione la ricostruzione diciamo è naturalmente una vicenda a rischio infiltrazioni però nel caso della ricostruzione dell'Aquila credo che con i sistemi di prevenzione e di controllo diciamo su ciascun appalto che sono stati attuati con il sistema CRASI che è un acronimo che riguarda il sistema informatico per la raccolta di dati notizie e informazioni sulle ditte che concorrono bene questo sistema ci ha consentito di prevenire in molti casi ovviamente in sinergia con le prefetture con la prefettura dell'Aquila innanzitutto ci ha consentito di prevenire infiltrazioni di colpire dove abbiamo poi registrato che ci sono stati i tentativi di infiltrazione il procuratore Roberti ha poi commentato gli ultimi arresti avvenuti a Pescara nell'ambito della maxi operazione del nucleo investigativo di Roma denominata Babilonia che ha coinvolto anche le province di Milano Napoli e Roma gli arresti di oggi sono in qualche modo la conferma che bisogna sempre continuare a investigare e a tenere l'attenzione molto alta perché il rischio infiltrazioni il rischio del controllo dell'economia legale da parte delle organizzazioni criminali è sempre alto insieme al procuratore nazionale antimafia Roberti presente al convegno sulla tratta degli esseri umani a Teramo anche il presidente del CSM Giovanni Legnini il traffico di esseri umani uno dei reati più odiosi più devastanti per la vita delle vittime ma anche per la collettività è supportato sostenuto alimentato dalle organizzazioni criminali quindi non c'è solo un nesso tra i due fenomeni criminali e questa è una ragione in più per accrescere l'impegno sovranazionale nell'ambito degli strumenti utilizzando gli strumenti disponibili di cooperazione giudiziaria il contrasto verso appunto uno del fenomeno criminale più insopportabile odiosi l'abbiamo sentito nel servizio ieri c'è stata un'operazione importante antimafia che ha coinvolto anche ma non solo la nostra regione sulla pagina di Pescara Sacra Corona il boss di casa a Pescara siamo sul messaggero c'è anche Sebastiano Cellammare fratello del capo clan Giuseppe tra i 23 arrestati della Didia di Roma per usura riciclaggio e altro per gli inquirenti e il titolare come prestanome della sala slot Millions di via Fabrizi una delle lavanderie del denaro sporco appartamento in centro insegne dell'attività nel cuore della città nelle carte dei PM romani anche la traccia di un'indagine per droga e dunque questo diciamo è l'approfondimento rispetto a quanto diceva il procuratore Roberti vengo a trovarti e ti sparo in testa la dura legge della banda riassunta nelle minacce a un dipendente restiamo sempre alla pagina di Pescara nel taglio basso quasi 4 milioni di sequestri della finanza scacco agli evasori il bilancio numeri positivi del comando provinciale di Pescara il 2017 comincia con una stretta sui reati fiscali ancora la cronaca volontario aggredito e rapinato calcio e pugni per una catenina d'oro in manetto marocchino assistito da un'associazione sociale l'aggressione al parco Davalos di Pescara restiamo sempre sul quotidiano il messaggero ma andiamo alla pagina Abruzzo perché si parla dell'omicidio di Esther Pasqualoni sms minaccia anche a Natale prima di essere uccisa oggi funerali dell'oncologa a Teramo fiaccolata a Roseto l'ospedale della Val Vibrata da adesso porterà il suo nome tutto è nato quando la dottoressa ha rivelato a Di Luca la sua nuova relazione l'autopsia conferma le dinamiche già note il killer amore distrutto lei doveva pagare poi il post Adriano Celentano è stata lasciata sola sul femminicidio di Teramo interviene anche il famoso cantante la povera Esther scrive il molleggiato viveva in uno stato di angoscia insostenibile perseguitata da mesi giorno e notte a niente sono servite le continue denunce alle forze dell'ordine sistematicamente archiviate perché purtroppo la donna era ancora viva ma ora che lei non c'è più prosegue il cantante finalmente la polizia potrà muoversi senza alcuni indugi in modo seriamente determinante questo è il post polemico di Celentano torniamo sul quotidiano il centro e apriamo la pagina di Pescara prostituta pericolosa non ho infettato i clienti con l'AIDS l'arrestata si difende rapporti protetti il mio compagno sapeva queste le rivelazioni della donna che si è giustificata così e poi sempre per quanto riguarda la cronaca estorsione usura ex boss preso in città Giuseppe Cellammare arrestato su richiesta della DDA di Roma abbiamo visto anche in precedenza e poi rapidato dentro il parco d'Avalos preso di mira un volontario della Caritas che ha riconosciuto il responsabile nel taglio basso l'allarme sociale sgomberati disperati anche in via Sacco blitz dei vigili nel palazzo che era andato a fuoco nei giorni scorsi rifiuti e siringhe ovunque esenzioni ticket scovati gli abusivi nei primi 5 mesi del 2017 la finanza ha accertato un danno di 1,3 milioni i dati sono stati diffusi nella cerimonia per il 243esimo anniversario della fondazione della guardia di finanza nel taglio basso dramma lieto fine in arresto cardiaco salvato dal 118 un 49enne si è accasciato mentre passeggiava in via Firenze continuiamo con la cronaca ma adesso andiamo ad aprire la pagina Abruzzo della città dove troviamo l'incidente ritroviamo l'incidente al vigile del fuoco che è precipitato sul calderone Maurizio Persieri è morto dopo un volo di 300 metri mentre saliva sul corno grande con un amico e poi di spalla borse di studio in memoria di Fabrizio Di Lorenzo che è morta lo ricorderete nell'attentato terroristico di Berlino il clima è stati più aride temperature aumentate di un grado ieri mattina ha presentato il profilo climatico dell'Abruzzo negli ultimi 50 anni temperature dice lo studio aumentate di un grado negli ultimi 50 anni nella nostra regione e poi il generale Ricciardi visita il comando regionale dei carabinieri forestali durante la visita istituzionale ha incontrato anche il presidente del parco nazionale del Gran Sasso Tommaso Navarra torneremo fra un po' sulla città per ritornare sull'omicidio di Sant'Omero intanto riapriamo il centro torniamo alle notizie di Pescara giochi spiaggia con il buco cene alberghi e bus il comune paga i debiti dopo due anni di attesa l'amministrazione stianzia 234 mila euro via al saldo delle fatture per evitare i contenziosi con i fornitori nel taglio basso Civitarese nel progetto per fare il nuovo stadio non ci sono altri megalola assessore rassicura il centrodestra che tema operazioni speculative a Pescara sud mare tutto pulito via anche l'ultimo divieto le analisi dell'arta indicano valori nella norma il tratto di via Balilla torna ad essere balneabile ancora presentato il progetto di ampliamento del conservatorio Luisa D'Annunzio auditorium e laboratori di musica nell'ex scuola media di via Saffi nel taglio basso via le pompe di benzina dal ponte del mare vertice in prefettura continuiamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere altre notizie da Pescara 20 famiglie in difficoltà finiti i fondi stop alle cure al polo VI da luglio non sarà più garantita la riabilitazione motoria e psichica i genitori disperati non abbiamo i soldi per le terapie Don Marco Pagnello dice nessuno sarà abbandonato stiamo cercando altre strutture sempre da Pescara andiamo avanti targa per Jennifer Sterlecchini il sindaco dice il comune sarà parte civile nel processo cerimonia in piazza Salotto in ricordo della ragazza uccisa dall'ex fidanzato al pattinodromo Memorial con 150 atleti e poi il grande caldo a fa umidità fino a domani ma giovedì arriva il fresco temperature di 6 gradi sopra la media domenica pomeriggio possibili e piogge nell'area metropolitana questa sera concerto dei Tiro Mancino a Francavilla stop ai contenitori di vetro norme di sicurezza più severe per lo show gratuito in piazzale Sirena fin dalle 18 sarà vietata la vendita di alcolici e di qualsiasi bevanda in bottiglia torniamo sul messaggero adesso andiamo ad aprire le pagine interne per vedere altre notizie notizie dall'area metropolitana restiamo all'afa tutto pronto per la grande sete caldo record in arrivo pescara tra le città da bollino rosso l'inverno nevoso allontana per il momento rischio siccità riserve garantite fino ad agosto Malaca invita le famiglie a un corretto uso dell'acqua potabile stop alla irrigazione appunto con l'acqua che si può bere ovviamente questi sono appelli che valgono a maggior ragione in estate ma che si possono e si devono estendere un po' a tutto l'anno con un uso responsabile dell'acqua potabile di sequestrato a Rimini il locale dei Granatiero l'imprenditore che a Pescara possiede bar e panifici è titolare dello storico Caffè delle Rose questo è il verdetto dei giudici e poi abbiamo già visto via Sacco Ghetto Sgomberato siringhe e rifiuti nel palazzo al Blitz della Municipale continuiamo sul messaggero adesso anzi no torniamo sul centro andiamo ad aprire la pagina di Monte Silvano amministrazione senza soldi il comune cerca sponsor per salvare le feste d'estate appello alle imprese per sostenere le manifestazioni al Teatro del Mare c'è tempo fino al 15 luglio per dare disponibilità e farsi pubblicità nei concerti Popoli torna in piazza per difendere l'ospedale questa mattina a partire dalle 9 quindi fra poco meno di un quarto d'ora è organizzata dal Movimento Avanti Tutta una manifestazione tra le priorità la carenza di personale e l'autonomia di gestione per i tre reparti adesso visto che ci siamo andiamo a vedere anche la pagina di Chieti così apriamo lo spazio dedicato alle altre province Paura San Salvo cacciati dal locale sparano al buttafuori l'addetto della sicurezza nega l'ingresso a un gruppo di albanesi uno di loro tira fuori la pistola e lo colpisce ad una gamba troviamo anche un'altra notizia da Lanciano prostituzione al centro massaggi cinese procure carabinieri sequestrano il locale indagati la titolare e il proprietario dell'immobile vediamo il servizio su questa notizia promettevano massaggi professionali in ambiente climatizzato ed elegante sui siti internet specializzati con possibilità di bagno in vasca o doccia dopo la seduta in realtà mascheravano vere e proprie prestazioni sessuali se ne sono accorti da tempo residenti di Villa Martelli a Lanciano che hanno segnalato con esposti alla procura il via vai continuo di clienti nel centro benessere Xiao Xiao dopo otto mesi di indagini il GIP del tribunale di Lanciano Massimo Canosa su richiesta del PM Rosaria Vecchi ha sottoposto a sequestro i locali e indagato due persone per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione indagata la titolare del centro massaggi MH 33 anni cinese mentre il proprietario dell'immobile è un lancianese di 70 anni è M che lo aveva dato in affitto e indagato per il solo favoreggiamento della prostituzione a partire dal settembre scorso la polizia giudiziaria della procura e carabinieri del nord di Lanciano hanno eseguito una serie di servizi di osservazioni anche con acquisizione di dichiarazioni testimoniali da parte dei clienti nei box del centro benessere operavano donne cinesi che si spacciavano scrive in una nota il nuovo procuratore Mirvana Di Serio per praticanti massaggi olistici in realtà fornivano delle vere e proprie prestazioni sessuali in quanto finalizzate a provocare orgasmo ai clienti interessati operando una vera e propria masturbazione agli stessi le tariffe variavano a seconda delle prestazioni da 50 a 100 euro l'una il giro d'affari era notevole considerando che il centro era aperto dal mattino fino a tardasera anche le donne che eseguivano le particolari prestazioni variavano spesso alcune abitano in zona altre invece raggiungevano il posto di lavoro dal capoluogo adriatico erano usate come un prodotto qualsiasi commenta il comandante della compagnia carabinieri Massimo Capobianco le indagini proseguono per verificare se dietro l'attività illegale di Xiaoxiao operava un vero e proprio sodalizio criminoso dedito allo sfruttamento della prostituzione ciò in considerazione del fatto conclude la nota della procura che su tutto il territorio nazionale pullurano centri di massaggi cinesi con analoghe finalità nel novembre scorso a Pescara gli agenti della questura scoprirono nella centralissima via Milano un altro centro massaggi cinese low cost in conferenza stampa la mobile mostrò anche un video con gli interni dei locali in quel caso gli sfruttatori della prostituzione un uomo e una donna cinesi vennero posti agli arresti domiciliari il giro d'affari era di 20.000 euro al mese continuiamo con le notizie dalla provincia di Chieti fondi per l'emergenza casa in 5 finiscono sotto processo vennero falsificati timbre e protocolli per favorire la figlia dell'ex funzionaria le accuse vanno dal falso all'abuso d'ufficio prima udienza il 5 settembre in tribunale ieri la decisione del gruppo Iachini dopo l'inchiesta sul comune che fu innescata da un anonimo 30 dj e musicisti totalmente in nero annivano maxi multe blitz della finanza in una decina di locali tiatini situazione sconcertante gli organizzatori delle serate sanzionati per 19.000 euro nel taglio basso ubicarichietti trattativa al via sui tagli di personale e sulle chiusure lettera dei sindacati ai vertici della banca prime riunioni a luglio una settantina nei posti a rischio filiali tecnologiche al posto degli uffici destinati a sparire per ridurre i costi andiamo adesso ad aprire sempre sul messaggero la pagina Aquilana Gran Sasso la seggiovia Fontari pronta per il prossimo inverno via libera della regione al progetto con il tracciato che ricalca quello attuale nuove tecnologie saranno facilitate la salita e la discesa degli sciatori vittime del 118 e Tellini due intitolazioni ieri all'Aquila nel taglio basso la tragedia del corno grande con il vigile del fuoco romano precipitato e poi il voto di Benedetto va veloce per i primi risultati basta una settimana il candidato del centro-sinistra subito verde asfalti arredi per questo non c'è bisogno di aspettare i classici 100 giorni il suo sfidante biondi la città meritava più coinvolgimento nel caso delle macerie l'ASM con grandi competenze acquisite nel post-sisma e completamente tagliata fuori dallo smaltimento questo per quanto riguarda il ballottaggio cambiamo pagina Vezzano sul Mona Santa Croce dissequestrate le bottiglie i legali della società dell'imprenditore Colella chiedono lo sblocco di 8000 recipienti fermi nell'impianto secondo i legali ci sarebbe il rischio di microfratture nella plastica oltre a ritenere illegittimo il provvedimento e poi l'elezione ad Avezzano di Pangrazio e De Angelis comizio in piazza a Cascere e i suoi dovete andare a votare proseguiamo con le notizie dalle altre province resta da andare in provincia di Teramo e dunque riapriamo il quotidiano la città la dottoressa uccisa oggi a Teramo i funerali dell'oncologa assassinato ovviamente in primo piano gli omicidi che hanno sconvolto in questa settimana la provincia di Teramo l'autopsia intanto svela che la morte è stata causata da tre colpi fatali al collo sferrati con un coltellaccio nel taglio basso l'Abruzzo è una regione che non ama le donne la del giovine e la verticelli critiche sulle lentezze e il disinteresse delle istituzioni nei temi appunto della parità di genere Roseto sarà lutto cittadino nelle ore delle sequie non si sa ancora come si regolerà il comune di Teramo per i funerali intanto l'asle di Teramo ha deciso che l'ospedale di Sant'Omero diventerà l'ospedale Esther Pasqualoni per volere appunto dell'asle nella foto vedete il manager Fagnano continuiamo con la città andiamo adesso a vedere la politica la crisi al comune di Teramo l'obiettivo ora è far macerare il sindaco opposizione ancora indecise tra le dimissioni in blocco dal notaio e la sfiducia in consiglio dopo l'estate ravvedimento dei gruppi che sostengono il sindaco un appello disperato ai dissidenti Caccioni e Falasca affinché tornino in maggioranza riflessioni sbraccia prende le distanze dal sostegno al sindaco Campana sta valutando se dimettersi da consigliere nel taglio basso il comitato scuole sicure ancora nulla sulla sicurezza delle scuole teramane i poliziotti penitenziari tutti i mister zero voti 19 agenti di Castronio con un mese di congedo elettorale non hanno portato a casa neanche un voto questo è l'approfondimento della città continuiamo con le altre notizie dal Teramano e andiamo a vedere anche qui la cerimonia per il 243esimo anniversario delle fiamme gialle lotta senza quartiere evasore e corruzione il comandante provinciale Balzano traccia il bilancio dei primi 5 mesi di attività della guardia di finanza andiamo in provincia adesso per vedere altre altre notizie riapre la strada simbolo di sisma e il maltempo a 4 mesi dal crollo finito sulle cronache nazionali sono terminati i lavori sulla provinciale 365 di Bisenti continuiamo delitto di alba il parroco invita la comunità rom a perdonare l'appello di don Federico ai funerali di Manuel Spinelli il 22enne ucciso da una coltellata al cuore intanto per l'inchiesta l'interrogatore di garanzia del presunto assassino è saltato l'albanese resta ricoverato in ospedale per le conseguenze della rissa adesso apriamo la pagina dedicata allo sport torniamo allora sul quotidiano il centro e andiamo a vedere appunto l'apertura dello sport che è dedicata al Pescara e dunque alla Serie B le trattative dei Biancazzurri Pescara ecco Palazzi il Chievo valuta Zampano il centrocampista arriva in prestito dall'Inter Zeman decisivo per la mia scelta contatto con i Clivenzi per la cessione del Terzino ma va trovata la formula nel taglio basso l'intervista il mio delfino Zemaniano tra Icardi e Verratti l'ex DS degli Carri si racconta giusto puntare sul boemo vi svelo i segreti per vincere con Zenec andiamo a vedere anche l'apertura del messaggero nella pagina dell'Abruzzo Sport e dunque andiamo a recuperare andiamo a recuperare la pagina Palazzi firma e adesso Gantz il centrocampista ha raggiunto l'accordo con il Pescara che nei prossimi giorni vuole strappare la firma delle bombe era ancora bloccata la cessione di Coulibaly all'Inter Brugman Benali e Biraghi i primi della lista dei partenti intanto arrestato l'ex presidente Biancazzurro Gerardo Soglia l'imprenditore campano presidente del Pescara nel 2007 è stato arrestato si è presentato spontaneamente una volta venuto a conoscenza che la corte di Cassazione aveva respinto il ricorso presentato da suoi evocati in merito alla condanna per bancarotta in relazione al crack della società Buon Viaggio nel taglio basso c'è solo il Messina tra Pescara e la Serie A2 e la palla a nuoto oggi è l'Enaia di con inizio le 17.30 la terza e decisiva gara per conquistare la promozione andiamo in Lega Pro Teramo i primi colpi sono Bob e Candido prima missione del direttore sportivo Repetto nel mirino il mediano Gambiano del Chievo e il trequartista del Bassano da lunedì inizieranno invece gli incontri con i procuratori dei calciatori in esubero e possiamo andare a vedere insieme il servizio proprio sul Teramo da lunedì il Teramo inizia davvero a voltare pagina infatti dopo il weekend di pausa che consentirà di fare le ultime riflessioni con l'inizio della nuova settimana il direttore sportivo Giorgio Repetto comincerà le consultazioni per comunicare ai giocatori che non rientrano nei piani tattici del diavolo che sono sul mercato e che con un'offerta possono partire i primi sul taccuino sembrano essere il centrocampista Pietro Baccolo e il terzino Raffaele Imparato che arrivati nel mercato di riparazione non sono riusciti per svariati motivi a migliorare il tasso tecnico generale della squadra poi verranno gli altri anche perché una volta capite le intenzioni dei singoli giocatori si avrà un quadro più definito su dove e come intervenire come già ribadito sarà un discorso che potrebbe non interessare solamente quegli elementi che hanno avuto un peso marginale quest'anno anzi stavolta il Teramo ragionerà in maniera inversa ha dei punti fermi che confermerà per tutti gli altri si cercheranno o soluzioni alternative o eventualmente e qualora a stadia l'assenso si proverà un recupero psicologico prima che fisico per le entrate ci sono in pole position Ventola Bruno e Valagussa tre nomi che andrebbero a puntellare la zona centrale del campo gli ultimi due e a rinforzare un pacchetto esterno di difesa che potrebbe subire appunto la partenza di Imparato ma anche di Carcalis sul terzino Scuola Pescara però ancora nulla è definito mentre la questione Sanzovini è una delle più complesse il ragazzo non ha sfondato nelle preferenze dei tifosi biancorossi ma l'estate scorsa per sposare il Teramo Sanzovini ha fatto una scelta di vita rinunciando a trasferirsi in una squadra del nord adesso a 12 mesi di distanza non vorrebbe vedere vanificata completamente quella scelta ripeto che lo conosce molto bene ci parlerà a fondo per capire se e quali margini ci siano per muoversi solo dopo sarà presa una decisione definitiva che ad oggi però non è per nulla scontata intanto sembra allontanarsi l'ipotesi Polidori l'ex Arezzo piace anche in Serie B e questa eventualità potrebbe complicare un approdo in casa Teramo per la prossima stagione sul quotidiano il centro ritroviamo il mercato di Lega Pro Bob e Candido sono i primi obiettivi del Teramo come detto abbiamo sentito anche nel servizio da valutare anche le posizioni di Spighi Sansovini Carraro e Barbuti e poi i dubbi dei tifosi aquilani è una cessione vera oppure di facciata per quanto riguarda le abruzzesi di Serie D l'Avezzano dopo aver preso Branićki e sulle tracce dello spagnolo Masperes del difensore Rodriguez si attende l'ufficialità per Cansele per Urruti Piace e Cassese dell'Agnonese restiamo sempre alla Serie D andiamo sulla città c'è una notizia che riguarda il San Nicolò Massimo Epifani saluta vi porterò sempre nel cuore l'allenatore ha voluto salutare la squadra che ha guidato per tre stagioni con una lettera ora si cerca il successore ritorniamo sul centro per andare a vedere le altre notizie per quanto riguarda l'eccellenza De Eugenio guiderà l'Alba Adriatica anche l'amico in Mastroian al Sambuceto o Palena all'Acqua e Sapone le società sportive abruzzesi in affanno per il basket di Cosmo lascia ho dato tutto Chieti A2 o Serie B l'imprenditore Teatino si fa da parte dopo 12 anni il futuro è un rebus ma è legato a Serpellini e Marchesani e poi aumentano le spese Città Sant'Angelo fa un passo indietro palla a mano la squadra che ha appena sfiorato l'Europa ripartirà dalla A2 gli sponsor non rispondono all'appello nel taglio basso il torneo Under 20 a Roseto l'Italia vince senza affagno l'Anda K.O. Timperi guida gli azzurri alla vittoria stasera c'è l'Ungheria e poi il ciclismo gli appuntamenti del fine settimana giovanissimi oggi a Magliano dei Marsi domani si corre a Ielli e a Villetta Barrea per quanto riguarda il cross country e gli amatori questa era l'ultima notizia per la nostra rassegna stampa mattino 6 termina qui tornerà lunedì alle ore 8 la nostra informazione invece alle 14 alle 19 e alle 23 con il TG6 grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana vi auguro una buona giornata vi auguro una buona giornata l'incommodo una buona giornata vi auguro una buona giornata Grazie a tutti.